Il progetto di questa volta era di trasferire l'esperienza dei più recenti anni del motosport dai successivi Super Trofeo Race e i veicoli GT3 che hanno vinto per tre anni su una ruota di Daytona 24 ore. L'Urakan STO è un'auto trasportata sviluppata per l'utilizzo di traccia che è estremamente divertente sulla ruota e performante sulla traccia. Nel STO abbiamo integrato molte soluzioni sviluppate nei ultimi 10 anni del motosport. L'Urakan STO aumentano la calma e mantengono la temperatura del motosport sotto controllo per diverse condizioni di ruota. L'Urakan STO, integrato sul motosporto, è stato designato con l'obiettivo di migliorare il comportamento dinamico del motosport, specialmente quando ruota. L'Urakan STO è designato per gestire il miglior modo possibile il flusso del motosporto. e in particolare è utile per ottenere e attaccare il flusso del motosporto l'intaglio dei deflettori del motosporto sul fronte e l'interno del motosporto. L'Urakan STO hanno un obiettivo doppio obiettivo per migliorare il flusso del motosporto e generare l'interno del motosporto. L'Urakan STO aumenta il flusso del flusso del motosporto per diminuire il flusso del motosporto e aumentare l'interno del motosporto. Per migliorare le qualità dinamiche del motosporto, il flusso del flusso del motosporto è stato sviluppato da introduire l'interno del motosporto, con le dacche e le dacche. Il flusso del flusso del flusso del flusso del fronte e l'interno del motosporto è stato sviluppato con l'obiettivo doppio obiettivo per ridurre sia il flusso del motosporto e il calipro. Tutti questi componenti sono stati creati in fibra carbonica e più del 75% dell'interno del motosporto del motosporto è creato con questo materiale. Ma non parliamo qui. Abbiamo anche adottato soluzioni leggerne come interiore nascolte, un filo di magnesio e un flusso leggero. Tutti questi soluzioni lead a una riduzione di peso di 43 kg versus Huracan Performante. Il motosporto professionale sceglia la sua propria ideale sulla ruota di ruota e le meccaniche finalizzano le ultime modifiche. Ciò che abbiamo raggiunto è che con l'utilizzo combinato dell'LDWI, della ruota di ruota, del magneto e del vectore che è gestito dal motosporto sulla traccia e delle meccaniche è ottimizzato in tempo reale con l'Anima in STO. Nel STO, Lamborghini lancia i frecchi di CCMR che sono presi dalla Formula 1 che offrono un'attività incredibile di ruota e una performance costante senza rinforzare in tempo per esplorire il potenziale del veicolo mentre guidando sulla traccia. Questo ciò 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 ciò. Il filo di pedal è uno dei grandi benefici con questa nuova tecnologia di CCMR. Il pedal sempre resta molto stile anche in condizioni di uso di continuo di traccia. lo portava il veicolo con un nuovo set of funcione che, usando una logica predittiva funziona in tempo reale per estimare le tempore attuali dei componenti di sistema rinforzato e il stato di utilizzo e il flusso, rispetto a cui l'avventura dell'auto sia guidata per la sua performance completa. E per completare il paese perfetto abbiamo anche sviluppato le tire specifiche per la performance di STO. L'STO rappresenta il più divertente che puoi avere sul ruolo ma, allo stesso tempo, garantisce un livello di performance tipico del nostro motosport, ma con l'estremamente facile di guidare per tutti i guidatori. L'indicatore di tempo è il vero indicatore di performance di un caro sport. L'STO è quasi così fasta come un autentico GT3 sulle tire in Daytona 24 ore.